I conti non tornavano e la Guardia di Finanza di Schio ha voluto vederci chiaro, scoprendo una società sospetta con sede dichiarata a Sant'Orso e formalmente operante nel settore dell'ottica, ma che intratteneva, per importi significativi, rapporti con imprese di settori del tutto differenti dal proprio. A questo punto i finanzieri scledensi hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di scoprire come la fantomatica società di Sant'Orso, peraltro senza dipendenti, mezzi e inesistente all'indirizzo dichiarato, avesse in realtà emesso fatture false per 1.350.000 euro ed evaso IVA per 285.000 euro, a favore di una cooperativa e di un'impresa di autotrasporti con sede in Milano e Trezzano sul Naviglio. I militari hanno così dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza, mettendo i sigilli a vari conti correnti, a 4 automobili, quote societari e a 2 immobili residenziali siti del Comune di Milano. Sequestro finalizzato alla confisca di beni sino al valore di 350.000 euro. Gli inquirenti hanno poi appurato che l'ultimo amministratore dell'impresa, Vicentina, moriva pochi mesi dopo la nomina, non venendo sostituito, mentre il precedente legale era un pensionato, 74enne milanese, che a dispetto dell'età risultava essere amministratore di ben 30 società cooperative. Tra le persone indagate, il 74enne con il pallino dell'amministrazione e i legali rappresentanti delle due società che hanno beneficiato della falsa fatturazione, mentre la società cartiera, così scoperta, è stata dichiarata fallita dal Tribunale in considerazione dei debiti tributari mai pagati che ammonterebbero 800.000 euro.